Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that dream in the ocean? Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi posizione del Fort Byte numero 30 Da pochissimi minuti disponibile si trova tra Montagnole Maledette e Parco Pacifico La posizione ragazzi ve la mostro subito e proprio a metà strada Ed è in una posizione davvero comoda perché non c'è loot Quindi non dovrebbe essere difficile recuperarlo Come vedete stiamo per attraversare Parco Pacifico Lo abbiamo appena fatto in questo momento e dobbiamo atterrare in mezzo a questi alberi ragazzi Il Fort Byte dovrebbe essere esattamente qua Lo state già vedendo qua in basso e allora senza esitare ulteriormente Atteriamo Ci appoggiamo Facciamo un bello screen Lo recuperiamo E il Fort Byte numero 30 Preso Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alle 17 in live Ciao! Noi ci vediamo alle 17 in live Noi ci vediamo alle 17 in live